Questa bellissima pianta che vi faccio vedere oggi è il Partenio, Tanaceto partenium. Assomiglia un po' alla camomilla, se non la guardiamo attentamente. Può sembrare una margheritina o un crisantemo. Ha l'odore del crisantemo. È una pianta veramente utile, anche se è poco conosciuta qui in meridione e credo anche in Italia. Però se noi andiamo nel boristeria o in farmacia troviamo le pillolette al partenio. Perché questa pianta ha un potere enorme nel curare l'emicrania. E noi sappiamo quanta gente c'è che soffre di emicrania. Questa è di sicuro effetto per curare l'emicrania. Perciò guardiamolo bene, Tanaceto partenium, procuriamocene una piantina e teniamola in casa. Perché è un toccasana. Se poi l'associamo all'artiglio del diavolo che è un antinfiammatorio, questa tisana diventa una bomba. Una bomba benefica, nel senso che fa passare il mal di testa. Ecco, una piccola comunicazione, ripeto, sempre non scientifica. Non siamo esperti nel senso scolastico, ma vi assicuro questa pianta la usiamo molto. Non ha controindicazioni. Ciaro, poi, sono sempre droghe le piante. Perciò non bisogna farne, non è che tutti i giorni ci facciamo una tisana di partenio. Col partenio ce la facciamo quando abbiamo mal di testa. Dalla nostra modesta e piccola comunità, cooperativa comunità Don Milani, è tutto sul Tanaceto partenium.